Musica Se avete bisogno di crediti, IGVOLT, link, codice e coupon qui in descrizione Michel Antonio Potm Premier League disponibile tramite SBC fino al 2 di settembre Quindi ci sono un bel po' di giorni prima che scada questa SBC Io l'ho fatto brevemente, non costa nemmeno tantissimo, massimo 12.000 a credito, un bel prezzino per una carta che secondo me può far divertire E salve ragazzi bentornati o benvenuti sul canale di Noi Malati di Foot Se il video vi piace lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale attivando la funzione della campanellina E qui in descrizione troverete i link ai nostri social, quali Facebook, Instagram e gruppo Telegram E ragazzi questa carta è interessante, ovviamente non è un top attaccante Però appunto come ho detto poc'anzi è un attaccante che può far divertire Perché ha delle qualità interessanti, quali ad esempio il tiro Il tiro però è buono, non è un top, ma è buono per il suo rating Questo è un confronto rating tiro, ecco diciamo così La velocità è veramente interessante, la forza è veramente interessante Allora come pro abbiamo velocità tiro, buono Agilità, dribbling, forza, 4 di skill Come contro ho inserito principalmente alla resistenza e alla freddezza Il 3 di piede debole con una stellina perché secondo me è un piede debole un po' strano E' più un 3,5 secondo me perché il mancino lo saprà usare bene in determinate situazioni Magari quando è in aria ecco riuscirà a segnare Non dico che se tira di mancino segnerà 9 volte su 10 Ma devo dire 5-6 volte su 10 segnerà col suo mancino Resistenza purtroppo perché è un giocatore che si stanca E quindi magari se arriva la seconda partita di fila Verso la metà della partita tenderà a fiaccheggiare un pochettino Ciò non è particolarmente utile ora che abbiamo uno stile di gioco molto rapido E quindi facciamo stancare moltissimo i giocatori Almeno per me è così Con la resistenza non ci siamo Il coppo di testa in carta non è assolutamente bruttissimo Anzi è veramente elevato 99 in salto, 93 in precisione di testa Però magari l'altezza 178 non è delle migliori Però sinceramente questo colpo di testa non si sente più di tanto in game Poi ci vuole un gioco improntato ai cross E non è nel mio caso Ne faccio uno ogni 10-15 occasioni L'aggressività è secondo me buona Giusta Ci permetterà di recuperare e aggredire nella maniera più giusta Il difensore avversario Ecco perché dico divertente Perché è un giocatore aggressivo con forza E con un dribbling In generale non è brutto Però ho apprezzato di più l'agilità E il dribbling puro Abbinato alle 4 di skill Perché l'equilibrio è Diciamo buonino Con 85 La reattività Allora Reattivo Non eccessivamente Non è un rapace Non è Appunto un giocatore reattivo Al massimo diciamo E la freddezza invece No Perché quando avrà la marcatura Tenderà a fare Qualche errore di troppo Controllerà Scusatemi Decisamente bene Il pallone Il passaggio secondo me Non è brutto È discreto Qualche assist lo farà ovviamente Perché Diciamo 82 in generale Non è brutto Poi ha i giusti valori Ad esempio nella visione Nel passaggio lungo e corto E quindi comunque Riuscirà a effettuare Qualche passaggio E qualche assist Vincente Il tiro Vi dicevo buono Per un 86 Generale Ma quello 85 Secondo me è molto interessante Soprattutto magari La potenza tiro Non tanto il tiro a volo Con un 75 E il Long shot Non è Precisissimo Ma non è bruttissimo Come alternativo Vi posso dire Un Vardy Un Werner E altre alternative Ragazzi Ce ne sono tantissime Ora come ora Ve ne ho citate due Tra le più easy Diciamo Werner Anche del Chelsea Ovviamente Ecco Come indice di Irinabilità Da 1 a 5 Allora La nazione Top Secondo me è molto interessante La nazione Anche la lega Però appunto È un inglese Che gioca Nella lega inglese Li do Un 2.5 Comunque Come stile intesa Io l'ho provato col base Ma secondo Futubini Top 3 chemistry step Utilizzati sono base Cecchino E Predatore Io sto pensando A Motore Che secondo me Male Non gli fa Però anche Predatore Non sarebbe Assolutamente Male Ma venendo le conclusioni Il mio voto per questa carta È un 8 Più Ragazzi È una carta divertente Non è assolutamente Un top 10 Attaccante Della serie A Della Della Premier League Scusatemi L'abitudine Però Per 12 mila credit Vi portate a casa Una carta 86 di rating Che può magari Tornare utile In altri semplici Perché ora Le 86 costano anche Un bel po' Ed è una carta Divertente A parere mio Non costa tantissimo Ma ragazzi Ditemi voi Cosa ne pensate Di questa carta Di questa review Se vi è piaciuto Lasciate un mi piace Un commento Una condivisione Hashtag Grazie a tutti Saluta E vi ringrazio Ciao belli E vi ringrazio